Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante selvatico episodio. In questo video ti parlerò di come preparare un Honey Mix a base di miele e acetosella. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satilo, liquore pineta, vermouth pita, liquore fore e liquore fenu. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.mitaspiris.com. Ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro Honey Mix. Selvatico, sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din don. Ti invito anche a dare un'occhiata agli altri nostri canali social Instagram e Facebook, sempre con il nome El Giardino Sotto il Naso, dove pubblichiamo regolarmente materiale diverso appunto da quello del canale YouTube. Ti invito anche a dare un'occhiata sempre a tutte le descrizioni dei nostri video e perché oltre alla descrizione del video stesso trovi anche eventuali aggiornamenti. Ma veniamo a noi. Ho deciso di registrare questo video perché siamo in primavera e uno dei fiori diciamo che è molto presente nelle campagne è appunto l'acetosella, Oxalis acetosella. Questa è una pianta molto interessante perché ha diverse storie e aneddoti, ma in realtà io ho deciso di registrarla perché qualche tempo fa abbiamo ottenuto una masterclass presso Bar Project, che è una scuola di bartending a Bari. Insomma saluto tutti i ragazzi, ciao 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 ciao. In questa occasione c'era una delle ragazze, insomma delle partecipanti che è Annette, che ha a sua volta dopo un po' di tempo partecipato ad una alla world class, quindi una competizione mondiale di cocktail, di mixologia. E lei appunto in questa masterclass era molto incuriosita nei confronti di questa pianta perché la caratteristica dell'acetosella, Oxalis acetosella, è appunto che ha questo gusto e acidulo un po' aspro. Tant'è che lei l'ha utilizzata appunto con il miele e ci ha fatto insomma questa base sour per il suo drink, in sostituzione chiaramente del succo di succo di aglumi, quindi tipo limone o lime. Questo fiore nel nostro dialetto lo chiamiamo Pappacitu o Cituriestu, cioè che richiama un po' il gusto dell'aceto o appunto del succo di limone. L'acido presente in questo fiore è appunto nella pianta in generale è appunto l'acido oxalico che ha un unico problema, non deve essere consumato in larghe dosi. Passiamo alla preparazione. Prima cosa da fare è andare in un campo con tutte le varie regolette, quindi bisogna andare a raccogliere in posti puliti, lontani dalla zona inquinata e cose varie con la dovuta cautela. Io in questo caso raccolto solo gli steli con i fiori tra virgolette albero di gelsi bianchi e neri piantato da mio nonno e troviamo la setosella e ci sono alcuni fiori aperti e alcuni chiusi perché il tempo è un po' così cosa e quindi si stanno per chiudere perché potrebbe piovere. Andiamo quindi a fare un po' di raccolta per la nostra preparazione. Li ho lavati e adesso andiamo a fare la prima lavorazione. Andiamo a togliere la parte diciamo dei fiori che non ci serve perché sono ormai secchi e poi utilizzare insomma le mani, puoi utilizzare una forbicina, come preferisci. Se c'è qualche fiore lo puoi anche lasciare tanto andremo a macinare il tutto in realtà e poi a filtrare. Diciamo vai a togliere soltanto se ci sono parti marce o parti diciamo tipo questo qui che non va bene oppure se ci sono dei fiori, delle parti secche. Il passaggio successivo è quello appunto di tagliuzzare il tutto e sminuzzare per facilitare se vuoi utilizzare chiaramente il frullatore. Altrimenti se vuoi estrarre, quindi se vuoi fare un estratto puoi utilizzare l'estrattore anche se poi andremo a preparare solo un drink quindi o comunque una base per uno o due drink quindi sporcare tra virgolette l'estrattore per così poco materia prima è diciamo inutile. Quindi l'opzione numero due è utilizzare un blender quindi un frullatore. L'opzione numero tre invece è quella di utilizzare un mattarello e andare appunto ad estrarre il succo che puoi utilizzare. Scegli la tecnica che preferisci di più. Io andrò a utilizzare un coltello in ceramica appunto per non ossidare eccessivamente la pianta. Andiamo a pesarli. Abbiamo ottenuto circa 50 60 grammi che sono in realtà eccessivi. Li vado a mettere nel mio frullatore. In questo caso di solito quando si frullano diciamo delle erbette si aggiunge un pochino di succo di limone proprio per rallentare il processo ossidativo. Io in questo caso essendo che comunque una pianta che contiene già acido oxalico non vado a mettere niente. Aggiungo giusto poco poco di acqua quindi circa saranno due tre cl giusto per facilitare la frullata e andiamo a questo punto a mettere il nostro bel tappino e andiamo a frullare. chiaramente non aggiungo troppa acqua perché altrimenti vado a diluire eccessivamente il liquido. A questo punto il passaggio successivo è quello di filtrare con un colino a maglie strette il nostro composto. Sulla base di quanto liquido otteniamo possiamo poi aggiungerci il nostro miele. La proporzione così come ho già detto nel mio honey mix tra virgolette tradizionale è di 60 di miele e 40 di acqua. Questa è la nostra base di partenza. In questo caso abbiamo quindi ottenuto 50 grammi di liquido. Dobbiamo aggiungere il 60 per cento di miele. Bene praticamente la differenza che c'è fra un honey mix classico e questo qui io vado a sostituire l'acqua neutra a un estratto già acidulo quindi in realtà abbiamo una sorta di sweet and sour già. Quindi rendo conto che abbiamo 50 grammi che equivalgono al 40 per cento quindi di acqua devo aggiungere il 60 per cento di miele quindi se questi sono 50 grammi devo aggiungere 75 grammi di miele. Il miele come puoi vedere insomma è bello e condensato e andiamo ad aggiungerlo man mano. Abbiamo ottenuto la nostra miscela e adesso andiamo a sciogliere il miele nel nostro liquido di partenza quindi nell'estratto di acetosella. Questa è un'ottima alternativa appunto per utilizzare un honey mix soprattutto con una base se vuoi utilizzare se vuoi fare un prodotto diciamo alcolico un drink alcolico puoi utilizzare praticamente un gin. A questo punto puoi scegliere di perché comunque il miele è abbastanza forte rispetto al succo di acetosella quindi all'estratto di acetosella puoi scegliere di aggiungerci magari dell'acido citrico in polvere o un pochino di succo di limone che comunque risulta abbastanza dolce. Bene la nostra preparazione. Mi piaceva molto l'idea del appunto del creare sul fiore di acetosella molto spesso le api ne vanno ghiotte quindi molto spesso trovi l'ape sul fiore dell'aceto sella quindi ho pensato di combinare le due cose quindi acetosella con il miele che è appunto derivato dalle api. Bene la nostra preparazione è giunta al termine questa è una base ripeto che rimane abbastanza dolce però puoi scegliere di una volta che vai a miscelarlo di aggiungere appunto del succo limone o succo di lime. Ragazzi la nostra base è pronta andiamo a metterla nel nostro squeezer e il nostro honey mix selvatico è pronto. Gli utilizzi possono essere svariati puoi in realtà sostituire questo honey mix selvatico con l'honey mix tradizionale quindi fondamentalmente puoi utilizzare anche a base con degli estratti con per esempio con delle tisane raffreddate con delle acque aromatizzate quindi puoi utilizzarlo come preferisci è veramente interessante ed è insomma per lo più originale. Shelf life quindi la durata di questo è un po' come un honey mix tradizionale quindi può durare anche una settimana però io ti consiglio di farlo e di utilizzarlo diciamo uno massimo due giorni perché poi al di là dell'ossidazione quindi il gusto inizia a diventare un po' diverso. P.S. non dimenticare mai di mettere la tua bella etichetta con che cosa c'è dentro è la data di produzione ogni volta prima di utilizzarlo mi raccomando assaggialo sempre perché per capire insomma se stai dando un prodotto se stai miscelando un prodotto comunque buono. Bene se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice lenzù commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio non resta altro per dirci ci vediamo presto anzi prestissimo alla prossima ciao